Salve a tutti ragazzi e bentornati con gli snapshot sul mio canale finalmente dopo ben 6 settimane esce un nuovo snapshot e in particolare è uscito lo snapshot 14W17A Allora che cosa fa questo snapshot di bello? Fa una cosa veramente meravigliosa ma di cui vi voglio parlare dopo per toglierci prima le cose più semplici Allora prima cosa da mostrarvi è che hanno rinnovato gli endermite, hanno cambiato la forma quindi il modello, hanno mantenuto praticamente solamente il loro colore E come vedete ora non sono più dei silverfish riciclati ma sono completamente diversi e sono carini a loro modo secondo me, hanno tipo un occhio solo Prima novità tecnica molto importante sono i confini del mondo Sì, i confini del mondo, c'è la possibilità di settare dei confini veri e propri che non saranno confini di bedrock ma sarà tipo una barriera diciamo di energia Come vi faccio vedere nell'immagine che sovrappongo in questo momento al video E praticamente oltre questa barriera non si potrà andare per cui chi non vuole avere il mondo infinito e vuole avere quindi un limite Avrà questa barriera alla fine del mondo e non ci potrà andare oltre Stessa cosa vale nei server dove magari utilizzano barriere di bedrock, che ne so, nei mini giochi per avere un bordo Oppure nelle punti di spawn, d'ora in poi si potranno utilizzare queste barriere semi invisibili Che verranno utilizzate tramite un comando, vale a dire slash world border, tutto attaccato La dicitura dice che poi bisogna scrivere, diciamo invio, set e due punti center Quindi penso che center sia la coordinata di centro del mondo o qualcosa del genere E dopodiché bisognerà decidere la distanza diciamo dal centro del bordo per l'appunto Altra novità tecnica molto importante che dobbiamo a Mugminer, quindi uno dei programmatori È il fatto che quando noi andiamo a caricare per la prima volta una mappa Come vedete i chunk si caricano tutti per bene Non ci sarà più quell'effetto dei chunk che ad un certo punto non si caricano Tipo lì c'è la fine dei chunk Ma se noi ci avviciniamo non rimangono non caricati E si caricano all'ultimo momento, cioè quando noi ci passiamo sopra No, d'ora in poi si carica tutto per bene prima che noi ci arriviamo L'unico problema è come state vedendo che c'è un lag assurto in questo snapshot Lag veramente tantissimo, vi assicuro che non è colpa mia Ma probabilmente è un lag dovuto alla nuova generazione di questi chunk Per cui per evitare i chunk vuoti fin quando non ci arrivi sopra Li generano più in fretta ma la cosa incide troppo sulle risorse Quindi fa laggare tutto il gioco Altra novità carina riguardo i server che d'ora in poi saranno ordinabili Quindi se noi andiamo nella lista dei server E andiamo sull'immagine del server che scegliamo Notare che se non ha nessuna immagine non fa niente perché metterà quella di default Come vedete appaiono delle freccine La freccia grande ci permette di entrare nel server Mentre quelle piccoline ci permettono di spostarlo E in questo modo possiamo ordinare la lista dei nostri server Una cosa molto comoda devo dire Ora che abbiamo detto tutte le piccole novità iniziali a cui si aggiungeranno vari bug fixes e ottimizzazioni del codice Possiamo passare alla novità principale di questa versione Vale a dire come vedrete tra pochissimo Un nuovo tipo di mondo Quindi dopo il super flat, il normale, i biomi larghi e l'amplificato Abbiamo il customized Vale a dire il mondo personalizzato Quindi se noi premiamo customize Abbiamo 4 pagine di settings che possiamo utilizzare per creare un mondo personalizzato Come vedete c'è di tutto Per esempio possiamo disabilitare le caverne, i dungeon, i laghi di lava, gli oceani di lava Qualsiasi cosa Possiamo alzare il livello del mare per creare per esempio un mondo sommerso Quindi magari questo facciamolo così vi faccio vedere Possiamo scegliere se ci sono gli strangled, i canyon, le miniere abbandonate Possiamo aumentare il numero dei dungeon, la rarità dei laghi, di acqua e di quelli di lava Quindi se la abbassiamo diventano più comuni, se la alziamo sono più rari Possiamo scegliere se spawnare in tutti i biomi Quindi se avere un mondo con tutti i biomi Oppure scegliere un bioma in particolare Quindi se vogliamo, non so, vedere la mushroom island per esempio Lo selezioniamo qui e creeremo un mondo che è solo isola di funghi E tra poco vedremo infatti che funziona così Possiamo aumentare la dimensione dei fiumi come state vedendo Poi passiamo oltre, possiamo decidere di far spawnare di più un blocco Quindi se vogliamo per esempio aumentare lo spawning del diamante Andiamo giù, cerchiamo il diamante come vedete Quindi possiamo aumentare la possibilità che spawni il diamante Quindi spawnerà molto di più se aumentiamo i valori L'altezza minima la lasciamo così Possiamo anche farlo spawnare più in alto Quindi anziché farlo spawnare solo nei livelli bassi Se lo alziamo per dire a 200 Spawnerà a qualsiasi livello Quindi anche in alta montagna avremo il diamante Nella pagina successiva invece ci sono vari valori Che riguardano la generazione del mondo più nello specifico Per cui per esempio l'altezza del mondo che abbiamo qua Eccola qui, vedete l'altezza limite Possiamo modificare la scala del rumore per esempio Che permette una generazione più amplificata del mondo Quindi se vogliamo fare un mondo amplified, personalizzato Alzeremo questa variabile che riguarda la Y Creando appunto un mondo che sarà più allungato verso l'alto E così via Ci sono veramente tante possibilità di scelta Anche per quanto riguarda i biomi, la profondità Come vedete tante cose E possiamo quindi personalizzare il nostro mondo come vogliamo Nella pagina finale infine ci sono varie altre variabili Diciamo avanzate come state vedendo Vediamo una casa o magari coordinate scale Vabbè non ci può interessare quella Ma comunque ci sono cose sempre che riguardano Cioè cose simili ai valori che abbiamo visto prima Per esempio Biome scale Dov'è che era? L'ho persa Vabbè queste qui ci potranno permettere per esempio Di aumentare la larghezza di un bioma Perché no? Quindi facciamo done e proviamo a creare questo mondo Con le variabili che abbiamo inserito Ed eccoci qua Come vedete siamo spawnati in una mushroom island E ho fatto modalità sopravvivenza per sbaglio Vediamo se posso cambiare modalità No vabbè fa niente Comunque sia come vedete A perdita d'occhio c'è solo l'isola dei funghi Perché questo mondo Lo abbiamo creato in modo che sia solamente Composto dall'isola dei funghi E possiamo farlo con qualsiasi bioma questo lavoro È un mondo sommerso Perché se noi andiamo sott'acqua Vedete che il materiale di cui è composta l'isola È anche sott'acqua Quindi non c'è la ghiaia subito Perché non è il fondale dell'oceano O una parete oceanica Ma è veramente il mondo che è stato sommerso Se era un bioma con l'erba Avremmo visto per esempio l'erba sott'acqua E anche questa è una possibilità molto carina Fare appunto un mondo sommerso Magari fare non so Una sopravvivenza in un mondo apocalittico Che è stato sommerso dall'acqua E quindi magari solamente i picchi delle montagne Rimangono fuori dall'acqua E sono gli unici posti vivibili Oltre alla possibilità di personalizzare Abbiamo anche la possibilità di resettare a default I vari parametri Oppure di farli random Creare un mondo a random Oppure possiamo utilizzare certi preset Qui ne abbiamo per esempio il mondo sommerso Vediamolo Ecco come vedete siamo nel mondo sommerso Al di sopra di questo mondo c'è una superficie di ghiaccio e acqua sciolta In alcuni casi Quindi ghiaccio sciolto scusate Le nuvole sono sott'acqua? Probabilmente sì Comunque sia scendiamoci Beviamo una pozione Così possiamo vedere meglio Siamo ad un'altezza di 200 blocchi circa Proviamo a scendere così Ok possiamo scendere più velocemente Per cui siamo sott'acqua ragazzi Qua è tutto sott'acqua Ed ecco il mondo Il mondo è totalmente sommerso Proprio come diceva il preset Veramente molto figo Qua ci sono blocchi d'erba Per esempio Quindi non so in che bioma siamo Siamo in una taiga sommersa in questo caso E ovviamente come per la taiga ci saranno tutti i biomi ma sommersi C'è la Ice Land che è un gioco di parole Penso che abbia le isole volanti Quindi proviamo anche questa che secondo me può essere molto interessante Ed eccoci qua Questo è il mondo delle isole volanti Si sta caricando e veramente lagga da paura questo snapshot Soprattutto in un mondo del genere E assomiglia al mondo amplificato Però in realtà è un mondo normale con le isole volanti Poi abbiamo un mondo con le caverne che sono tipo esposte alla luce Abbiamo la pazzia delle montagne Quindi montagne vertiginose Abbiamo un mondo tipo devastato da qualcosa Sembra che ci sia caduta una meteorite Il mondo delle caverne e buona fortuna Buona fortuna deve essere un mondo sommerso nella lava Io voglio le caverne del caos Voglio provare le caverne del caos come ultimo mondo Dopodiché gli altri ve li lascio scoprire a voi Ed eccoci qua Come vedete siamo immersi in una caverna gigantesca Guardate quanto cazzo è epica sta cosa Mamma mia non ho mai visto delle caverne così Ragazzi ci sarà da divertirsi parecchio Con questo snapshot Per cui io adesso me lo vado a godere Quindi chiudo il video E vi invito a mettere tanti mi piace Veramente questa volta ragazzi Lo snapshot non usciva da 6 settimane Quindi i mi piace ci vogliono tutti per il grande ritorno E soprattutto tante condivisioni Perché questa cosa la devono vedere tutti Cioè devono saperlo tutti nel web di sta cosa Di questo snapshot incredibile E soprattutto tanti commenti Per dirmi cosa ne pensate E se vi piace il mondo cavernoso Oppure il mondo sommerso E tutto quello che vi ho fatto vedere Detto ciò io vado a giocare Fatelo anche voi E un saluto da Erenblaze E ci vediamo alla prossima settimana Con un prossimo snapshot sul canale Ciao a tutti Ciao a tutti